Altre aziende del gruppo Adesital, polo manutenzione freccia rossa Napoli, Italia Adesital è stata coinvolta per la fornitura di materiali per il lavoro di impermeabilizzazione, recupero e valorizzazione delle superfici dei lastrici solari precedentemente ricoperti da una vecchia membrana bituminosa per un totale di 6.000 metri quadri. CERCOL, Mountain SPA Residence, St. Anton Amalberg, Austria Le lavorazioni in cui sono stati utilizzati i prodotti CERCOL hanno comportato l'impermeabilizzazione e la successiva pose in opera di tutti i pavimenti e rivestimenti della hall, della pavimentazione attorno alle piscine e del mosaico delle piscine stesse Mosaico Più Bishop's Gate Hotel, Londra, Inghilterra Fornitura di un mosaico di marmo volacass posato a rivestimento di tutti i bagni dell'hotel per un totale di oltre 9.000 metri quadrati di superficie rivestita Poliglass Italia Bacino a Selva Val Gardena, Bolzano, Italia Si tratta di un bacino idrico per innevamento artificiale completamente impermeabilizzato con la membrana Poliglass Mapeplan TWT23 Poliglass USA Ville Lungomare, Fisher Island, USA Tutti i tetti delle villette sono stati impermeabilizzati con la membrana Polistik TU+, che vanta la caratteristica di essere durevole, ma soprattutto di facile e veloce posa Sopro, Germania Center Parks, Algoi, Leutkirk, Germania Centro vacanze e ricreativo di altissimo livello, dove il comfort e il benessere sono di casa Per la posa di pietra naturale e l'impermeabilizzazione delle piscine sono stati scelti solo prodotti Sopro Sopro, Polonia Centro commerciale Forum Gallery, Danzica, Polonia In questo complesso commerciale, la qualità dei prodotti Sopro per la posa e la stuccatura delle fughe si può vedere nei cinema, nei corridoi, nei negozi e sulle pareti interne del centro commerciale Tecnopol è l'Ancla Beach Club Marbella, Spagna La vasca della piscina di oltre 1000 metri quadri è stata impermeabilizzata con prodotti Tecnopol e in particolare con sistemi a base di poliurea pura della gamma Tecnocoat e in particolare con sistemi a base di poliurea pura della gamma Tecnologia